E il giro di oggi finisce con Piazza Colombo, sì, adesso sono in un piccoletto che sto aspettando di tornare a Brignole, così poi andiamo in Isport Cup e nulla di che. Questo è quello che vedo. Prima eravamo lì e niente di che, adesso è uno studio medico questo qua, poi questo è il bar dove si trova la mia educatrice. E pian piano, adesso andiamo in a Brignole e il giro di oggi si conclude qua. Peccato, mi mancheranno questi momenti, però spero che ne avrò altri. Allora, per oggi è tutto, lasciate like, iscrivetevi al canale se volete unirvi all'AsaFamily. Non è mio, non è mio! Ok, per oggi è tutto da Asa Bianchi, aspettate che adesso vi faccio vedere questo. Alta.